ciao ragazzi ehi tu vieni qua vieni Valoo vieni vieni eccoci qua ragazzi con MacBang ASMR con il nostro blu con qualcosa di molto appetitoso oddio mi sa cadendo guarda cosa ecco qua ecco qua allora abbiamo pizze e pizzarelle napoletane roba varia che non so neanche che cosa sia iniziamo a mangiare un po' di pizza ragazzi questa è con che cosa è che cosa è questa roba ragazzi io faccio tutto con le mani è tipo pomodorini credo boh non lo so ragazzi peperoni boh io mangio no 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 spero che si senta un pochino spero spero ragazzi è buonissima ma non ho capito che cosa c'è dentro qui abbiamo sempre biscotti ne ho messi pochi gliene devo mettere perché li ha buttati lì vabbè gli daremo qualche cornicione ragazzi la roba napoletano napoletano è qualcosa di incredibile per questo io sono qui per questo sono voluto venire in campania non solo a napoli in tutta la campania il cibo è ottimo si trovano alimenti buonissimi freschissimi gioiosissimi per il palato sapevo che la mia barba non sarebbe stata felice di questa cosa Balu invece è molto felice Balu stai dormendo Balu dorme negli ultimi video Balu dorme non 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 ma lo faremo presto risvegliare ragazzi ragazzi questa è questa è questa invece è la fish che me lo dice a fare no? perché non lo so se si capisce che è roba fritta ragazzi che cosa abbiamo qui per te? vieni qua vieni qua Balu Balu non mi fa fare l'smr guardate guardate Balu vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua tieni tieni prendi 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 vieni qua vieni qua Cioè io devo fargli fare un video ASMR ragazzi, perché lui è incredibilmente bravo, vorrei mangiarmi qualcosa di questo fritto, onestamente è incredibilmente bravo, questa roba fritta è veramente ok, veramente ok, proviamo questa, questa è di patata e formaggio ragazzi, veramente ottima, ho il mio seglionino che se ne fugge, allora patata e formaggio, questa invece credo sia una frittatina napoletana, non vorrei sbagliare con qualcosa dentro che non riesco a capire che cosa sia, non riesco ragazzi, io poi mi dimentico che facciamo io ASMR e farlo normalmente, no, non devo farlo, comunque non so che cosa c'è dentro, assaggiamo. Ottimo, ottimo, questo invece dovrebbe essere una sorta di croquet che si è spappolato della confezione, Balu che, Balu che cosa stai facendo? Allora, assaggiamo, 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 assaggiamo questo, vediamo com'è. Allora ragazzi, questa è una sorta di cosa fritta, col prosciutto dentro, ragazzi non so che cos'è, non ho mai mangiato. Buono, buono, è tutto buono ragazzi, ragazzi miei, è tutto buono, è tutto buono, è tutto buono! Quello che sta mangiando Napoli ragazzi miei, è tutto buono, avete capito che è tutto buono? Allora facciamo mangiare un po' questo dietro perché sennò mi sta facendo tormentare. Vieni, Balu, vieni! È bravissimo, è bravissimo! Vieni qua, vieni, vieni a prenderlo, vieni! Il prossimo ASMR MacBank è suo ragazzi, non c'è niente da fare. Allora, io che devo provare più? Devo provare questa sorta di cosa fritta. Che però è vuota, mi hanno dato la parte vuota ragazzi. C'è un po' questo? assaggiare un altro bambino è buono è buono devo dire è buono ma è vuoto cioè è una cosa fritta ragazzi ma è vuoto allora io assaggio questa pizza che eccola qua ve la faccio vedere con crema di friarielli penso o pesto non so se è crema di friarielli pesto salsiccia ragazzi mozzarella proviamola un poco vediamo che cosa dice l'ho peccato ragazzi i miei schifosi ASMR Macbeth con i peli della mia barba nemica ho tutti i nemici io la mia barba è nemica il microfono mi è nemico comunque la pizza è con i friarielli non è il pesto e io me ne mangio un altro morso con i peli della mia barba nemica ho tutti i tempi veramente ottima tutto ottimo ragazzi io ora faccio fare un altro po' di ASMR a Balu vieni Balu vieni vieni Balu vieni ma è bravissimo è una cosa bravissima è proprio ragazzi è il suo mestiere come si su aiuto brutto allora ragazzi io mi fermo qui perché prima di questo ne ho mangiato altro e dopo ne devo mangiare altro ancora quindi se mi permettete ragazzi cari io vi saluterei perché credo sia proprio il caso va bene quindi lasciatemi un like perché finalmente vi ho fatto il video con la pizza ragazzi miei quindi lasciatemi un like lasciatemi un commento dicendomi se conoscete tutta questa roba che ho mangiato se sapete bene che cos'è tipo frittatine questo coso col prosciutto dentro che io non ho capito che cos'è ragazzi e ti metti a fare se sciocchezze comunque dicevo fatemi sapere questa roba che cos'è nei commenti ditemi quale cibo napoletano preferite e mettetemi like e aspettatemi per un nuovo video perché prossimamente è McBang Baloo Baloo vieni qua Baloo Baloo non si muove se io non gli do cibo Baloo vieni Baloo vieni 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 ciao 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 Grazie a tutti.